Vedo in voi le sentinelle del mattino, vuol dire che siamo già vicini a mezzanotte. Vedo in voi le sentinelle del mattino in quest'alba del terzo millennio. Nel corso del secolo che muore, giovani come voi venivano convocati in adunate oceaniche per imparare ad odiare. Venivano mandati a combattere gli uni contro gli altri. I diversi messianismi secolarizzati che hanno tentato di sostituire la speranza cristiana si sono poi rivelati veri e propri inferni. Oggi siete qui convenuti. Siete qui convenuti per affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e distruzione. Difenderete la pace pagando anche di persone se necessario. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analvabeti, mancano di lavoro. Voi difenderete la vita in ogni momento dal suo sviluppo terreno. Vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti. Cari giovani del secolo che inizia, Dicendo sì a Cristo voi dite sì ad ogni vostro più nobile e ideale. Io prego perché Eri regni nei vostri cuori e nell'umanità del nuovo secolo e del nuovo milenio. Non abbiate paura di affidarvi a Lui e Lui vi guiderà. Vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e in ogni situazione. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.